Ciao a tutti e ben ritrovati. L'avete letto già questa mattina in un post che abbiamo pubblicato sulla pagina di Nuori Mondi. Domani mattina ci sarà un evento molto particolare, se non unico sicuramente raro, che infatti si verifica ogni 18 anni. Stiamo parlando dell'allineamento di ben 5 pianeti. Quali sono? Andiamo dall'interno del Sistema Solare, quindi parliamo di Mercurio, Venere. Ci siamo anche noi, ma non si vede perché siamo noi ad osservare. Poi avremo Marte, Giove e Saturno, tutti allineati. E appunto, oltre a essere allineati, sarà fantastico perché li vedremo in ordine di distanza dal Sole. Esattamente, come quelle belle foto che si vedono nei libri di scuola in cui vedete il Sistema Solare con tutti i pianeti, ognuno in ordine appunto di distanza rispetto alla Stena. Sì, sarà un quadro fantastico, sì. Cioè l'unico problema è che, diciamo, accadrà un pochino presto questa cosa. Sì, esatto. Quindi o vi svegliate molto molto presto, oppure fate come noi, andate in torbini molto molto tardi. Esattamente, infatti l'allineamento comincerà già nelle prime ore della notte. Riusciremo a vedere subito Giove e Saturno. E man mano che la notte avanzerà, cominceranno a sorgere tutti gli altri pianeti. Primo fra tutti Marte, seguito poi da Venere. E ultimo, circa 40 minuti prima dell'alba, Mercurio. Ed è questo il momento in cui il quadro di questo allineamento sarà completo. E in realtà ci sarà anche la nostra bella luna a completare questo bel quadretto. Un po' come ambasciatrice della Terra, che non si vede perché siamo noi sulla Terra ad osservare. E niente, quindi... Quindi non andate a dormire. Non andate a dormire. Fate after hour stasera, tanto è venerdì, dai. Esatto. E niente, se avete voglia di osservare questo fenomeno così raro, che comunque vi ricordo domani mattina sarà il momento in cui l'allineamento, se vogliamo, sarà tra virgolette perfetto, completo. Ciò non toglie che comunque sarà visibile anche negli giorni a seguire. Quindi sarà comunque un fenomeno che sarà osservabile in un periodo che parte, in realtà è già partito da un po' di tempo, pulmina domani e continuerà poi nei prossimi giorni. Però stasera è, diciamo, il quadro più perfetto, quindi dai su, non andate a dormire, vedete l'estamento, dai. Ciao a tutti.